Quando si pensa ad effettuare una valutazione neuropsicologica cross-culturale, la prima criticità che viene alla mente è sicuramente quella legata alla barriera linguistica. È pertanto auspicabile che la valutazione venga effettuata nella lingua madre del paziente, così da avere una ragionevole certezza che eventuali difficoltà cognitive che dovessero emergere siano attribuibili a un declino cognitivo e non a difficoltà di comunicazione. Inoltre, lingue diverse differiscono tra di loro per il sistema fonologico, lessicale e grammaticale. Tutte queste variabili devono essere prese in considerazione quando uno strumento viene tradotto nella lingua del paziente. La lingua però non è l'unica variabile culturale che influenza la valutazione. Importante è anche il livello e la qualità della scolarizzazione ricevuta. Infatti, quando si ha a che fare con pazienti migranti, specialmente se questi provengono da minoranze etniche, è frequente che abbiano un basso livello di scolarizzazione o anche analfabetizzazione. L'istruzione scolastica è fondamentale perché ci permette di acquisire quelle informazioni che vengono poi utilizzate all'interno della valutazione neuropsicologica. Inoltre, essa ci fornisce e allena abilità e strategie che sono proprio l'oggetto della valutazione stessa. Basti pensare alle abilità plastico-costruttive. Esse solitamente vengono indagate tramite esercizi di copie di disegno o rappresentazione a memoria di vari oggetti. Per quanto noi possiamo dare per scontato l'abilità di disegno, questa viene acquisita all'interno di un'istruzione formale. Quindi, quando abbiamo a che fare con pazienti privi di una scolarizzazione formale, sarebbe auspicabile sostituire questi test con copie di modelli che non utilizzino il disegno, ma la manipolazione di oggetti, ad esempio i fiammiferi nello stick design test. Un'altra variabile che influenza la valutazione neuropsicologica cross-culturale è la familiarità degli item che vengono utilizzati. Ad esempio, nei test di denominazione di memoria verbale, le immagini e le parole vengono scelte appositamente perché hanno un certo livello di familiarità e di frequenza di utilizzo. Quindi, quando valutiamo un paziente che appartiene a una cultura diversa, dobbiamo assicurarci che all'interno della sua cultura quelle immagini e quelle parole abbiano lo stesso livello di familiarità. Questi sono solo alcuni modi in cui la cultura può influenzare la valutazione neuropsicologica, ma molti altri esempi possono essere fatti. Ad esempio, la cultura influenza il modo in cui misuriamo il passare del tempo o la nostra posizione nello spazio. In alcune culture asiatiche non viene utilizzata la suddivisione in quattro stagioni, bensì in 24 periodi basati su un calendario lunare. È quindi auspicabile, quando si effettua una valutazione con un paziente straniero utilizzare test che siano stati o appositamente creati o adattati alla cultura di riferimento, oppure che siano stati pensati originariamente per essere cross-culturali. Mentre la maggior parte dei test cognitivi utilizzati durante le valutazioni neuropsicologiche cross-culturali sono in realtà degli adattamenti di test originariamente nati in un contesto occidentale, la RUDAS rappresenta uno strumento che è stato invece sviluppato già dal principio per essere applicabile in diversi contesti culturali. Infatti, il processo di sviluppo della RUDAS è partito dalla creazione di due gruppi scientifici, un gruppo di professionisti della salute e un gruppo culturale, composto da rappresentanti di 22 tra culture e lingue differenti. Questi due gruppi hanno collaborato alla creazione degli item. Il gruppo di professionisti della salute ha individuato quei domini cognitivi che sono ritenuti fondamentali per identificare il declino cognitivo. Questi domini sono poi stati analizzati dal gruppo culturale che li ha valutati sulla base della rilevanza che hanno all'interno di ogni specifica cultura. I domini risultati maggiormente rilevanti sono quindi tornati al gruppo di professionisti della salute che hanno identificato i compiti maggiormente adeguati a valutarli. Questi compiti sono stati di nuovo analizzati dal gruppo culturale che ne ha identificato l'adeguatezza all'interno della cultura e delle lingue di riferimento e ne ha proposto eventuali modifiche. Le modifiche proposte sono state quindi rivalutate dal gruppo di professionisti della salute per poi tornare un'ultima volta al gruppo culturale. I 60 compiti così individuati sono stati revisionati dagli autori dello studio e da un gruppo di interpreti professionisti per poi essere sottoposti a 150 pazienti di cui 60 non madrelingua inglesi. In questo modo sono stati individuati i sei compiti che attualmente formano la Roland Universal Demensi Assessment Scale, un test di screening paragonabile al Minimental sia come punteggio globale su base 30 che per la durata di somministrazione che prevede all'incirca 10 minuti.